Ecco il patrocino del Comune di Olbia, l'Assessorato alla Cultura. Io ringrazio vivamente Archeolbia per lo sforzo compiuto anche quest'anno, perché veramente, soprattutto senza risorse, abbiamo incontrato diverse difficoltà, però la volontà era quella di confermare anche quest'anno questa ennesima edizione e ci siamo riusciti. Ringrazio innanzitutto gli ospiti ad iniziare dalla Scuola Civica di Musica nella persona del professor Dell'Itala, il direttore, e chiaramente tutti i musicisti che poi il professor Dell'Itala presenterà. Invito però in rappresentanza dell'Archeolbia, Alessandra, che ci presenterà la serata. Vi auguro una buona serata e, beh, non so, non credo che sia prematuro invitarvi alla prossima edizione. Buon proseguimento. Buonasera a tutti, vi ringrazio anch'io per la partecipazione, e ringrazio anche il comune di Olbia che ha permesso la riuscita di questa manifestazione e l'assessorato alla cultura nella figura dell'assessore appunto Vincenzo Cacchiacchia. Vi abbiate una saluta. La manifestazione inizierà adesso, tra cinque minuti, e si svolgerà in questa maniera. Allora, innanzitutto vi chiederei una gentilezza, magari lasciare lì al tavolino all'ingresso il vostro nome, giusto per, diciamo così, giustificare il vostro passaggio qua. E poi, qua sulla destra ci saranno dei miei colleghi e l'archeologo che vi porteranno su a fare la visita al pozzo. Si formeranno dei gruppi di 10, al massimo 15 persone, e si salirà a turno, e le altre persone aspetteranno giù. Un altro ringraziamento che volevo fare è appunto delle attività che ci hanno permesso di fare questa manifestazione. Il Café Prince, che ha messo oggi qua il chioschetto dove potete trovare i panini e le bibite. Il bar, il chioschetto di zona industriale, idini e stintori. La trattoria sempre di zona industriale. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Il terzo sarà brevissimo. Io ringrazio anche volte la persona della dottoressa Baccio. Presento i ragazzi della scuola civica. Suoneranno gli allievi di Arpa, gli allievi di Arpa. Poi una nostra ex allieva di chitarra, Plauto, Melania, e la Unesda, Stefano. Io invito i nostri ragazzi a stare qui e a non disperdersi nel piazzale. Perché si suonerà in maniera continuativa, alternandosi naturalmente. Un'ultima cosa, invito i nostri ragazzi, man mano che eseguono un brano, a presentarlo, sia il titolo sia l'autore. A tutti voi un buon ascolto. Grazie. 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 Cosa suoni? Allora, questo era il primo movimento di una suite e adesso eseguirò il secondo movimento, la suite caucasiana di Laurent Boutreau. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.